Musica Benvenuti dal Teatro Paesiello, che è sempre una magia, una magia venire qui, tutte le volte che si ritorna, ma penso che quello che provo io anche lo proviate voi, perché questa è un'opera d'arte, siamo in un'opera d'arte, quindi siamo felici, lieti di avervi tutti qui numerosissimi, bene, e un benvenuto speciale però diviene dal Festival del Maggio Musicale di Salentino, che rinnova così ogni anno questo impegno nell'attività, nella profusione della cultura musicale per tutto il territorio. Dicevo speciale perché è un evento speciale, nel 2018 il Festival del Maggio Musicale di Salentino compie 10 anni, festeggia il decennale, quindi un percorso intenso, denso, e che quindi giunto a 10 anni per quanto riguarda la cultura musicale, qui a Lecce vuol dire che ha avuto un percorso consolidato, competente, di qualità. Naturalmente è sempre organizzato dall'associazione Aulos, presidente e il maestro Gianluca Milanese. In realtà qui a Lecce e anche nel Salento, quando diciamo Fessima del Maggio Musicale Salentino, pensiamo subito al maestro Gianluca Milanese ovviamente. Il maestro lo conosciamo tutti, ma lui non è tanto un maestro, ma anche un compositore, e praticamente anche realizza delle improvvisazioni, delle improvvisazioni che non sono del momento istantane, ma un'improvisazione che lui realizza addirittura proprio dei momenti, dei brani musicali intere, a seconda di dove si trova, nel contesto di dove si trova. Quindi questa diciamo che è una peculiarità che gli è venuta come dote, come talento naturale. Bene, io adesso tra poco chiamerò il direttore artistico, che comunque è sempre il nostro maestro Gianluca Milanese, perché è presidente dell'associazione, ma anche direttore artistico. Però prima di chiamarlo devo fare dei ringraziamenti che sono doverosi da fare, perché se siamo tutti qui vuol dire che qualcuno oltre noi ha collaborato, e anche credendoci in questo progetto che dura da dieci anni. Quindi ha avuto il patrocinio, il Maggio Musicale Salentino, dalla Commissione Europea, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla Città di Lecce, dalla Unisalento, dal Conservatorio di Musica di Toschipa di Lecce, dal Centro Studi Sigismondo Castormediano e Gino Rizzo. Naturalmente il festival si avvale anche di numerosi sostenitori e collaboratori che credono in questo percorso musicale di talento, che si avvale quindi dell'aiuto, della collaborazione amichevole, ma che ci crede con sostegno forte, perché ci sono delle associazioni, delle realtà nella nostra Salento e nella nostra legge di alto livello. Quindi collaborano sia artisti che associazioni del territorio. Però io adesso tra poco chiamerò il nostro direttore artistico, però dovete concedere un qualche minuto, perché quando si realizzano questi eventi, io non sono una persona che va sul palco, sul teatro per fare delle presentazioni, perché non sono una presentatrice, organizzo eventi culturali, una case editrice, quindi faccio altro, però quando Simone Giullo, con la quale collaboro, e Gianluca Milanesi mi hanno chiesto questo, poiché sono attenta, sempre lungo il loro percorso musicale, accanto a loro, ho accettato di buon grado, con un po' anche di inconscienza, se così possiamo dire, però sono qui, quindi tocca a me. Mi piace dirvi che il festival è punteggiato da diversi momenti e spazi musicali, che si avvale però di altri momenti di arte, quindi sia della musica, sia della pittura, della danza, del teatro, e praticamente queste punteggiature sono l'arte totale, fanno parte dell'arte totale che incontrano la musica totale, perché comunque Gianluca Milanesi l'attua la musica totale, che non è qualcosa che è sempre stato, è soltanto dal secolo scorso, dall'inizio del secolo scorso, perché per esempio lui non suona solamente il flauto, attraverso diversi tipi di flauto, poi la musica popolare, il jazz, quindi lui è aperto a 360 gradi ed è questa la musica totale, una musica che raggiunge tutti, non soltanto gli addetti ai lavori. Bene, poi si è avvalso durante gli anni il festival di diversi appunto momenti culturali, già dall'anno scorso abbiamo avuto nel foyer l'allestimento della mostra della pittrice salentina Giulia Rifani, e quest'anno siamo ancora qui, avete potuto vedere arrivando qui nella foyer le opere, sei opere allestite, la festa delle muse, appunto un inno appunto alla pittura in se stessa, alla musica che è il filo conduttore, alla poesia, al teatro e alla danza. Quindi noi questa sera gli offriamo tanta bellezza, perché di bellezza se ne parla tanto, però volevo dirvi una breve riflessione che ho fatto. Questa bellezza non viene soltanto da chi vi offre lo spettacolo, da chi vi offre la mostra, ma viene anche da voi, perché se voi siete qui è perché siete assetati di bellezza, altrimenti sono certa che non saremmo qui, sareste in altri posti. Quindi noi doniamo bellezza, sia con la pittura, con la musica questa sera, con un concerto di alto livello, rilievo, e poi vi presenteremo degnamente, perché ci daranno delle gioie. Infatti queste due serate sono dedicate alla gioia di vivere, che non è un modo di dire, ma è un modo proprio di essere. Guardate, l'altra sera sentivo un direttore di orchestra che diceva che la musica è una cosa semplice, però ti fa riflettere, entra dalle orecchie, poi arriva al cervello, giunge al cuore, poi alla pancia, poi sale di nuovo al cuore, alle orecchie e al cervello, e lì poi si scatenano le emozioni. Queste emozioni, queste energie di bellezza, si espandono, diciamo, perché sono energia pura, noi non lo sappiamo, però noi ce la comunichiamo e la trasmettiamo. Per questo qui, questa sera e domani sera, ci sarà uno scambio di bellezza. Bene, un'altra persona che ha curato l'introduzione nel pamphlet, nel pieghevole, è Giovanna Politi, la scrittrice. Giovanna Politi, che credo che sia qui. Ecco, ciao, benvenuta. Anche lei ha chiuso questo suo messaggio, è un grande volissimo, con la bellezza. Quindi noi questa sera ci scambiamo bellezza. e invitiamo il nostro direttore artistico, grazie a lui noi viveremo la bellezza questa sera. Gianluca Vianese. Sì, grazie, in assoluto, grazie a tutti voi per essere qui questa sera, grazie a Pompea che mi ha introdotto, mi ha introdotto questa bellissima edizione, la decima. Cercherò di essere molto stringato, perché Pompea ha detto già un po' tutto, per cui cercherò di passare poi spazio subito dal palcoscenico. Io innanzitutto ringrazio gli artisti che quest'anno, nel corso dei dieci anni, hanno dato lustro a questa rassegna, che è nata quasi per giorno, proprio con lo scopo di valorizzare le eccellenze del territorio, facendo le volte anche incontrare con artisti, diciamo, più internazionali, se così vogliamo dire, ma proprio per uno spirito di condivisione della bellezza, della musica e dell'arte in genere. Quindi principalmente questa sera ringrazio la Pat Powell Jazz Orchestra, una formazione a fare un applauso. Conosco molti dei musicisti che prendono parte a questo concerto, quindi sono ben felice di averli qui ospiti in questo bellissimo teatro. E soprattutto ringrazio il pubblico che nel corso dei dieci anni si è un po' affezionato, se così vogliamo dire, a questi repertori che sono stati anche molto lontani fra di loro, quindi dalla jazz alla musica antica, alla musica popolare, alla musica classica. E quindi questo è un piccolo risultato che siamo riusciti ad ottenere dopo dieci anni, siamo ben contenti come organizzazione, come detto, con tutti quelli che ci lavorano direttamente e visibilmente, anche quelli che ci lavorano nelle retrovie, nel backstage, come si dice. Noi abbiamo anche un'altra collaborazione attivissima, competente e rigorosa. Devo dire che Gianluca Milanese è rigoroso, perché se non impari le regole poi dopo non le puoi trasgredire. Per questo sei rigoroso, però sei flessibile. Questa è una connotazione, vi faccio veramente i complimenti. Anche Simona Giullo, la nostra project manager, che ha collaborato e collabora attivamente con Gianluca Milanese, anche lei è rigorosa, ma è anche flessibile. Chiava tanto anche la cultura. E noi la invitiamo qui sul palco per un saluto. Simona? Grazie, buonasera a tutti. Sono felice per questa decima edizione, di continuare a vedere tantissime bellissime persone che con noi vogliono condividere questa avventura, non solo musicale, ma artistica. ci tengo a dire che questo contenitore è nato proprio per far dialogare le diverse arti e i numerosissimi talenti salentini che noi abbiamo e che ci riconoscono nel mondo. e abbiamo fortemente voluto creare un contenitore di altissimo livello, libero, in cui tutti potessimo essere qui per godere questo momento di emozione e di cultura. e ringrazio anche io di cuore veramente questo grande staff che intorno a noi, di associazioni del territorio, di grandissimi e eccellenti musicisti, di imprenditori, che io dico illuminati, che in qualche maniera sostengono le nostre iniziative, che consentono a tutti noi di essere qui e anche le istituzioni e le amministrazioni. Infatti vorrei chiamare qui adesso accanto a me l'assessore allo spettacolo del Comune di Lecce, il dottore Paolo Foresio, che sempre nella sua costante sensibilità verso la cultura, lo spettacolo, e l'aginità del nostro territorio, non c'è più a trattare la sua attività. Grazie, grazie a voi, grazie di cuore per quello che fate, ma è doveroso esservi a fianco, ci mancherebbe altro, io lo dico sempre, rischiamo anche di ripetermi alle volte, è dovere della pubblica amministrazione mettersi al fianco di fare le cose in genere. Poi nel vostro caso le fate, le fate egregiamente, perché un festival che arriva alla decima edizione è un segnale importante. E faccio gli auguri ovviamente a voi che organizzate, a Gianluca con cui mi lega un'amicizia che dura da tanti, tanti, tanti anni, più che decennale, eravamo ragazzini quando provavamo a mettere insieme la musica d'Ensi con la musica dal vivo, eravamo davvero molto, molto ragazzi, per cui mi fa piacere, poi perché Gianluca, grandissimo professionista, ovviamente riesce a fare una cosa bella, una cosa importantissima, cioè mette insieme le artisti locali, quindi valorizza la musica locale, che è una cosa degli artisti nostri, di casa nostra, che è una cosa a cui noi teniamo particolarmente, e poi dà l'opportunità di assistere a queste bellissime serate di grandissima qualità, e questo non è poco, vi ricorda diciamo gratuitamente. Quindi è davvero una... bravo, da lei ci ha fatto anche un applauso, perché è veramente l'ultimo. Noi quindi umilmente proviamo a dare un piccolo sostegno, quest'anno mi diceva, mi confessava Gianluca, un sostegno a poco poco più importante rispetto agli altri anni, il prossimo anno cercheremo di dare un sostegno ancora più importante, come è giusto che sia. La band qui è già prontissima, e non vedo ancora di iniziare a suonare, perché sono caldissimi e carichi, per cui buona serata e buona musica. Grazie ancora. Io vorrei che andrei giusto adesso per introdurre il concerto, il presidente dell'associazione Bud Power, che da anni sul territorio, uno specifico a maglie, punta sulla cultura musicale, sul jazz, uno specifico. Grazie, buonasera, sono Marco Peritti, sono pronto di essere il presidente dell'associazione culturale jazz Bud Power. Anzitutto mi occorre ringraziare l'immaggio musicale salentino e la persona del direttore artistico Gianluca Milanese, che già per la seconda volta ci ha dato l'opportunità insomma di esibirci davanti a questo spettacolo. Due parole per descrivere ciò che noi facciamo. Noi siamo un'associazione culturale che nasce nel 2009, sul solco tracciato da due precedenti associazioni, che è il Jazz Club, quindi è una storia più che trentennale. Adesso il nostro nome è Bud Power. E' un'associazione che non ha scopo di rubro. Fondamentalmente noi abbiamo come obiettivo la rinfusione della cultura musicale, in particolare attraverso attività didattiche, masterclass, corsi di musica d'insieme, di composizione jazz, e poi di eventi. Colgo per questo punto l'occasione di invitare tutti a seguirci sul sito www.magliegez.it perché lì c'è l'elenco di interattività che noi tutto l'anno portiamo avanti e che ci servono poi sia a noi che al pubblico che ci potrà venire a vedere e a portare avanti questa attività. Colgo l'occasione per annunciare il prossimo momento che sarà il 19 e il 20 maggio presto la nostra sede ci sarà un concerto, una masterclass con Matteo Bortone. Il concerto sarà il 20 e la masterclass tutte e due giorni. Sarà poi, i musicisti vengono qui accompagnati da altri musicisti soci che sono Giancarlo Del Vitto, di Luizia Cassiano e per Sostenere Inizio. Quindi vi invito a partecipare al prossimo evento e a tutti quelli che sono linkati sul sito www.magliegez.it Tutte queste attività quest'anno culmineranno tra l'altro in un progetto ancora più ambizioso che è una settimana full immersion di musica, di didattica, di concerti che sarà a maglie tra fine agosto e 11 settembre. Potete sempre prendere informazioni sul sito. Ecco, direi a questo punto di arrivare al blu della serata che è la presentazione del disco che nasce praticamente dal lavoro che parte da un po' di anni e da un anno mi è stato affidato alla direzione della Bad Power Orchestra composta da 23 musicisti al direttore Gabriele Franco che la diretta ha composto i brani e alla fine siamo arrivati a produrre un disco un disco che è stato prodotto inizio A all'inizio di quest'anno, stato registrato oggi facciamo la prima presentazione grazie a voi e che ritorno sul fatto che essendo un'associazione con autosostenuta non a scopo di lucro fondamentalmente il disco si è autosostenuto con i nostri sforzi e grazie anche al sostegno di Antonella Gionna. Ecco, invito quindi tutti per proseguire questo percorso e per poterci dare la possibilità di produrre altra buona musica consiglio tutti di acquistare il disco perché oltre al fatto che è un bel disco insomma avrete modo di sentirelo stasera e ascoltarlo stasera ci date anche una mano a proseguire le nostre attività credo di averlo ringrazio tutti voi io non ho detto nulla di Gianluca Milanese non diciamo nulla perché troviamo tutte sul sito e poi lo conosciamo però devo fare i complimenti e quindi 50 produzioni discografiche questo è un applauso bene, tra poco appunto come diceva il nostro presidente la Bud Powell James Orchestra ci porterà in un'esperienza unica un repertorio inedito orchestrato immaginato e sognato noi adesso andiamo di là si aprirà il sipario noi cellulari li accendiamo quando usciamo e entriamo nelle vibrazioni della Bud Powell James Orchestra con una frase volevo accompagnarvi e ce ne andiamo tutti insieme di della poetessa Claudia Petrarca una nota appesa al filo della musica segue quel filo che mi indica la strada buono spettacolo grazie grazie siete pronti? abbiamo parlato molto? ah si non posso parlare ancora? no dai una ventina di minuti altri no 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 tutti gli scherzi tutti gli scherzi vi parlerò della musica direttamente questo disco è stato un viaggio ne avremo modo durante il concerto di raccontarvi come perché l'abbiamo fatto però ogni brano ha veramente un significato e abbiamo deciso di aprire questo concerto con Ninja perché tutti noi musicisti in fondo un po' ci sentiamo dei Ninja siamo pronti qui nelle nostre stanzette chiusi tutti i giorni a studiare a fare le scale a usare l'armonia più complicata possibile a fare le capriole all'indietro mentre riusciamo a suonare con la lingua e poi perché per arrivare pronti a questo momento a stare sul palco quindi questa è mezza grazie a tutti 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 a tutti grazie 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 a tutti solisti grazie a tutti 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 abbiamo abbiamo grazie a tutti 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 grazie a tutti